Buongiorno e buona domenica. Oggi puntata speciale di Regione Europa, il settimanale europeo della TGR, l'attestata giornalistica regionale della RAI, diretta da Vincenzo Morgante. Puntata speciale, come vedete, non siamo nel consueto studio a Bruxelles, lo studio del Parlamento europeo, siamo nello studio del Comitato delle Regioni Europee, perché questa settimana si è svolta la dodicesima edizione degli Open Days, il tradizionale appuntamento con cui le regioni europee, oltre 400 che sono raggruppate nel Comitato delle Regioni, mettono a confronto le loro buone pratiche a livello europeo e si confrontano anche sulle strategie che dal locale, come diciamo spesso, passano e riguardano il globale, cioè il rapporto tra i territori e le istituzioni dell'Unione Europea a 28 Paesi. Il tema degli Open Day di quest'anno, giunti appunto alla dodicesima edizione, era il tema dell'Europa, l'Europa della mia Regione, l'Europa della mia città. Insomma, un modo per avvicinare ancora di più, dopo le elezioni europee del 25 maggio, i cittadini all'Unione Europea, crescendo insieme, è infatti l'altro slogan di questa edizione degli Open Day. Per discuterne in studio ci sono due Presidenti di Regione, una volta si chiamavano Governatori, adesso siamo tornati al termine Presidenti, è meglio? Per me sì, perché non siamo in America. Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, e per lei, Luciano D'Alfonso, Presidente della Regione Abruzzo? Assolutamente sì, perché mi ricordo che siamo amministratori. Bene, allora, entriamo subito in argomento con quella che è la questione più discussa, più scottante e anche che sta al centro in uno dei temi della Presidenza italiana dell'Unione Europea, che è in corso. Ed è quella che riguarda la possibilità di superare il limite del 3% del patto di stabilità, per quanto riguarda le opere pubbliche dei territori che vengono realizzate in cofinanziamento. Un tema rilanciato fortemente anche dal Comitato delle Regioni. Allora, Presidente Chiamparino, perché per i nostri territori è così importante riuscire a spuntarla su questo? Ma guardi, io direi che è importante per i nostri territori, ma in generale è importante per il sistema Europa, perché se non si riesce a far passare una politica, poi ci accontenteremmo già se fosse per gli investimenti pubblici sui territori, ma se non si riesce a passare una politica, per cui gli investimenti infrastrutturali, materiali e immateriali, che servono per rendere più competitivo il sistema Europa, stanno fuori dal patto di stabilità, al netto di tutto quello che possiamo dire sul patto di stabilità medesimo, che non è che sia il massimo dell'ingegneria economica conosciuta al mondo. Ma secondo lei è diventato vecchio anche lui come lo Statuto dei Lavoratori? Beh, lo Statuto dei Lavoratori ha 44 anni, quindi riscriverlo è quasi normale. Il patto di stabilità europeo è già sbagliato quando è nato, lo Statuto dei Lavoratori no. Per lei, Presidente? Assolutamente sì, è una necessità, almeno per quanto riguarda alcuni comparti di investimenti. Penso alle infrastrutture produttive per la mobilità, penso anche alla messa in sicurezza del suolo. Noi abbiamo un territorio nazionale che è caratterizzato da una diffusissima struttura friabile, debolissima, che ad ogni pioggia rivela tutta la sua debolezza, quindi noi dobbiamo assolutamente operare per mettere in capacità di reazione il nostro territorio rispetto ai disastri. Poi abbiamo il tema anche dell'edilizia scolastica italiana, che per adesso ha visto una iniziativa da parte del governo in carica, del governo Renzi, ma c'è ancora molto da fare. E il vincolo che noi abbiamo assunto impedisce anche alle amministrazioni territoriali di investire a quello che hanno. Ecco perché va tematizzato e risolto. Senta, Presidente Chiamparino, secondo lei questo argomento del 3%, ma immagino i piemontesi, i lombardi, ma anche i siciliani, i sardi. Che cosa capiscono alla fine? Perché poi alla fine si capisce insomma grosso modo che c'è un limite che non si può superare, però poi si scopre magari dall'altra parte, lei ha amministrato la città di Torino, che i comuni hanno anche un sacco di soldi e non li possono spendere. Questa è la logica paradossale del patto di stabilità, almeno per come è stato applicato fino ad ora, perché quello che succede è che molti comuni, che pure potrebbero avere la possibilità di spendere perché hanno già le gestioni virtuose, non lo possono fare perché se no sfondano il patto di stabilità. Però quello che i cittadini capiscono è quello che diceva Luciano D'Alfonso adesso, cioè che noi abbiamo un territorio che in alcune parti del paese fa acqua purtroppo non metaforicamente da tutte le parti, abbiamo un sistema di trasporto pubblico che è insufficiente, abbiamo tante cose da affrontare e non riusciamo a farlo perché ci sono dei limiti che sono oltretutto secondo me non coerenti con quella che è l'impostazione filosofica originale dell'Europa, perché io ricordo sempre che queste cose che stiamo dicendo adesso stavano tutte e stanno tutte nel patto di Lisbona. Cioè c'è stata poi una torsione come dire neoliberista a un certo punto, fatta peraltro in ritardo e che quindi non ha impedito la crisi, che sta impedendo adesso che le risorse che ci sono nel sistema europeo possano aiutare la ripresa. Cioè poi se lei vuole fare una domanda provocatoria me lo faccio già io, c'è quello che è la sinistra in Italia. No, in questo no, la domanda che le volevo fare era questa, ma perché i francesi ogni volta che dicono da Bruxelles avete superato il 3% sostanzialmente riescono a rispondere avete sbagliato i conti? Perché i francesi hanno una storia complessiva, anche una storia di credibilità nei rapporti con la Germania e con l'Unione Europea più forte di quella dell'Italia e che però noi possiamo recuperare e che credo in parte con il nuovo governo stiamo anche recuperando. Quindi secondo lei, Presidente D'Alfonso, si potrebbe rispondere come fanno i francesi? Cioè rispettiamo il 3% però su questa cosa degli investimenti pubblici a livello locale e andiamo oltre perché abbiamo bisogno di una ripresa economica e soprattutto di una ripresa di coesione sociale e di più posti di lavoro. Assolutamente sì e io colgo che siamo in cammino lungo questa strada, cioè di riprenderci una capacità davvero di coesione decisiva, cioè di saper decidere in maniera coesa all'interno e far valere le ragioni anche di un piano di sviluppo e di investimenti. Se per esempio noi non ci adoperiamo per mettere in sicurezza il nostro suolo e il nostro sottosuolo, poi lo paghiamo come danni. Paradossalmente ciò che assumiamo come vincolo a monte e che non ci consente di investire a valle, poi a conseguenza e a conclusione noi rischiamo di spendere ancora di più nei risarcimento, nelle riparazioni, negli interventi postumi. Ma questo riguarda anche gli investimenti destinati alle infrastrutture produttive. Penso per esempio all'approvvigionamento energetico per le nostre imprese. Noi dobbiamo determinare condizioni di attrattiva delle imprese in maniera tale da dare anche su questo una coesione sociale sul piano delle opportunità di posti di lavoro. Qual era la domanda che pensavo che le facevo? No, ma quella che me l'ha già fatta prima lei quando ha detto nello Stato dei Lavoratori. Cioè quello che secondo me, il modo con cui noi possiamo politicamente fare, diciamo come la Francia, cioè contrattare, è quello di riuscire ad essere credibili sulle riforme. Ed è qui che non bisogna che la sinistra, il centro-sinistra, che in questo momento governa l'Italia, abbia dei tentennamenti. Perché la ragione per la quale siamo meno credibili è che noi, non avendo la grandeura alle spalle, potevamo avere la grandeura indotta dalla capacità di far vedere che facciamo le riforme. Finora non l'abbiamo avuta. Adesso bisogna averla. Perché se no si diventa statalisti. Se si dice solo sfondiamo il 3% e lasciamo tutto com'è, no, il 3% non serve per continuare a pagare debito pubblico. Il 3% serve a fare degli investimenti. Ma poi ci vogliono delle riforme che rendano il sistema Italia competitivo e capace di tornare ad essere un sistema che produce valore e lavoro. E secondo lei, Presidente Chiamparino, è possibile superare il 3% e non fare più debito pubblico? E non aumentare il debito pubblico? È possibile ridurre il rapporto tra il debito e il PIL. Perché se noi facciamo le riforme, allora il 3% ti può aumentare l'indebitamento. Ma contemporaneamente, se tu crei delle riforme, tanto ti porta del lavoro perché induce con una leva keynesiana attività. Se tu contemporaneamente, sottolineo tre volte contemporaneamente, fai le riforme che rendano più flessibile il sistema Italia dal punto di vista produttivo, puoi attrarre investimenti che ti aumentano il prodotto interno lordo e quindi si riduce il rapporto, che è quello che conta. A parte il fatto che poi ci sono paesi come il Giappone che hanno il 200% del rapporto debito pubblico PIL e continuano a stare lì. Perché? Perché sono credibili dal punto di vista produttivo. Quindi non perché stampano moneta. Non perché stampano moneta. Questo lo fa la Fed e questo è un altro aspetto su cui la Banca Europea bisognerebbe fare una riflessione molto seria. Insomma, però, al di là di tutto questo, noi dobbiamo tornare ad acquisire credibilità come un grande paese industriale, che siamo stati, siamo ancora e possiamo tornare ad essere anche agli occhi del mondo che invece ci vede forse con delle lenti un po' opache, un po' appannate. Senta, Presidente D'Alfonso, per la programmazione 2014-2020 che idee avete in Abruzzo? Di arrivare per tempo, di metterci tutta la responsabilizzazione occorrente e di coltivare solo la cultura del progetto e la cultura del risultato. Noi abbiamo nei prossimi sette anni qualcosa come due miliardi di euro sommando tutti gli strumenti e questo sappiamo che è irripetibile per quantità e qualità. Allora si tratta di assumere come risultato non l'impegno o formalmente la spesa, ma la capacità di raggiungere risultati capaci di produrre a loro volta risultati. Su questo ci stiamo dotando di una struttura amministrativa interna riassumendo all'interno la parte anche nobile del lavoro programmatorio, del lavoro di monitoraggio e del lavoro anche di rendicontazione perché io dell'Europa assumo questo come valore. Più che le pesantissime procedure burocratiche è la cultura del progetto. Non deve esistere più una risorsa finanziante a rubinetto ma una risorsa collegata e destinata a progetti dei quali si possono misurare utilità e risultati conseguiti. Presidente Chiamparino, visto che Torino in questi Open Days insieme a Praga e Valencia viene premiata come città che ha innovato una delle città capitali nell'innovazione tecnologica l'utilizzo dei fondi sarà tutto in Piemonte sull'innovazione tecnologica? L'innovazione sì, intendendo per l'innovazione tecnologica non solo quella applicata all'industria nel senso che noi abbiamo circa 3 miliardi e mezzo mettendo insieme agricoltura, fondo sociale e fondo strutturale regionale che naturalmente è trasversale l'industria fa la parte insieme all'agricoltura fanno buona parte ma anche l'innovazione culturale l'innovazione territoriale fanno parte di questa cultura del progetto di cui diceva Luciano e D'Alfonso dobbiamo però, proprio perché io sono d'accordo con lui che è la cultura del progetto e non quella della burocrazia che dobbiamo, e della gerarchia che dobbiamo imparare dall'Europa però allora cerchiamo di fare una battaglia perché anche in Europa a cominciare proprio dal ruolo che hanno i vari organismi si riducano i passaggi e le pesantezze burocratiche aumentano i confronti progettuali noi, lui parla di 2 miliardi io parlo di 3 miliardi e mezzo sui fondi europei niente di tutto questo ha avuto minimamente a che fare con tutto ciò che ha e sia il Comitato delle Regioni quindi se vogliamo parlare di progetti bisognerebbe trovare dei modi ripensando anche per esempio il Comitato delle Regioni stesso dei modi per cui la consultazione il parere riusciamo a darlo sui progetti e riusciamo a darlo non su delle procedure legislative che spesso lasciano il tempo che trovano Cioè lei che tipo di Comitato delle Regioni più snello vedrei una cosa più snello e più focalizzata ad hoc sulle scadenze topiche dell'Unione Europea Anche lei? Assolutamente sì con una esaltazione del ruolo del Comitato nello stabilire le priorità degli investimenti e le priorità anche dei bersagli normativi su questo a volte ci perdiamo negli adempimenti in una logica degli adempimenti burocratici e amministrativi è come se la partecipazione fosse ridotta alla formalità Insomma come avete sentito dai nostri due ospiti noi ci fermiamo qui per adesso perché è un tema che naturalmente riprenderemo anche in Europa insomma bisogna snellire un po' di burocrazia ringrazio Luciano D'Alfonso Presidente della Regione Abruzzo e Sergio Chiamparino Presidente della Regione Piemonte naturalmente noi parleremo degli Open Days anche domenica prossima con dei servizi sulle numerosissime iniziative che vi sono state adesso Regione Europa prosegue con Antonio Silvestri il vertice di Milano dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sul lavoro voluto e presieduto dal Premier Matteo Renzi che come sapete è il Presidente per questi sei mesi sino al 31 dicembre dell'Unione Europea nella Presidenza italiana grazie a tutti